Siamo tanto contenti di avere questa ulteriore donazione da parte dei Lions, che ringraziamo tantissimo. È l'ennesima volta che i cittadini del Val d'Armo ci danno una mano in aiuto con una strumentazione davvero innovativa anche questa volta. Non la useranno solo i pediatri, come sapete abbiamo necessità di curare i bambini su una patologia così diffusa come le otite, ma vedere meglio è possibile la membrana, in modo da calibrare anche la cura e gli antibiotici da dare. Per noi è particolarmente importante e mi fa molto piacere che anche i giovani medici possano usare delle attrezzature innovative.